buongiorno a tutti gli atleti come come va siete tutti a casa vero anch'io però non smetto di allenarmi come calcio vorremmo giocare insieme a voi e ritorniamo un gioco dell'orto il gioco dell'orto non perché fare un'orto ma perché in realtà dovremmo fare un'orto come lo dovremmo fare ora ve lo spiego allora intanto è importante avere due bottiglie due bottiglie d'acqua e disporle al centro del corridoio della vostra stanza o del vostro giardino quindi mettiamo la prima bottiglia e facciamo un passo e mettiamo la seconda poi prendiamo un pallone ok io mi ho diversi prendiamo il pallone che ci piace di più e prepariamoci per l'esercizio allora dovremmo fare con il pallone il tracciato che disegnerà l'importante è prendere il tempo quindi potete chiedere al vostro famigliare di prendere il cronometro al fischio dobbiamo partire e disegnare l'orto si parte e contiamo gli otto giri quindi uno due tre quattro cinque sei sette e otto bene quanto ci ho piegato grazie allora potete fare qualcosa esercitatevi e prevedetevi il tempo ciao ragazzi ciao 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 ciao